Ecco che è arrivato anche il momento di Lina, vediamo se salta... E vai! Bello! Grande! Hai visto il salto? Sì, l'ho ripreso! Sono riuscita a riprenderlo! E vai! Ci dà un grande spettacolo sto pesce! Vuoi la cintura, Lina? La cintura, Max? Un attimo che sto piando fuori caldo! Cosa ho detto io? Ma basta la chiatta e ci muove e arriva dei pesci! Quella nuova? Sì, tagli quella nuova perché l'altra... Max, che casino! Max! Ups, piano, piano! Bella, eh? Due salti! E sono riuscita a riprenderli tutti e due? Chiombo? Non è l'antanitatore! Ah, il chiombo! C'è qualcosa che segna qui! C'è qualcosa, la batteria si sta scaricando? Eh? È la batteria? Dove? Questa gialla, sotto rec! Ah, non chiedono a me! Oh! Questa qui è la batteria? Quella che è l'antanitatore si è la batteria si, ce l'ha, ce l'ha, adesso lo sto registrando! E cosa? Mettete di là, di là, di là! Magari salta ancora qua! Tanta, tieni sempre in tensione, eh? Sì, sì! Salta! Eh! Salta, 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 salta! Eh, leee! Si vuole liberare! Recupera perché è bastardo! Eh, lo sto! Ai, 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 ai! Sotto la barca! Bastardole! Sotto la barca, bastardo! Va, va! Scusa, scusa, scusa! Vai! Tanta! Mi dica, scusa, cintura! Aspetta, tanta! Aspetta, ti sei sempre dritta alla casa! Bastardole! Ho visto come fanno quando saltano? Eh? T'inghezzano! Eh, hanno detto, e hanno detto, mo te fai... T'inghezzano! Concio io! Guarda! Non c'è il resto, eh! Si! Fai il resto, eh! Sempre dritto! Monica, salgo in spazio! Si! Infatti, mi stavo spostando di qua! Fai andare al cricchetto! Fai andare al cricchetto! Eh, il braccio! Eh, il braccio! Ok! Oh! Cappello, grazie! Stiamo saltando, eh! Cappello! Eh, inizia di far caldo, eh! Oh, eh! Tarda! Eh, si, eh! Eh, hai avuto la bicicletta! Adesso pedala! Eh, adesso pedala! Eh, adesso pedala! Pedala! Eh, adesso ne fa due o tre così è finito! Che cosa? Sì! In chiesa! Che morto! Ma due o tre fuga è così! Quando finisce una fuga è poco! Questo salta ancora! Questo qua è arrabbiato! Visto che... Eh? Tu pensa a quello che... Se quella volta l'ha fatto a me... Ah! 70... Prende la giacca! Puoi tirarsi la giacca, Tata? No! No, no! Un casino prendere la giacca! Dai! Adesso può aprire oggi! Non la bacia! Ma che salta! Salta, 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 salta! Recupera! Tieni sempre attenzione! Ma che salta! No! No! Ma là! Eccolo lì! È riuscito! Cattivo, eh? Eh, non è neanche grossissimo! Eh, no! È un metro e ottanta! Fanno male le braccia, amore? No! Questo è un modo per chiedergli di darti il cambio! No, non lo amo! Non darglielo, eh! Piuttosto perdi! Non dargli questa soddisfazione! Ma lo stai da nero! Dovrei... Hai visto, no? Sti... Sti pesci che ho preso! Perché con tranquillità lo ti riforma! Sì, è la sua canna poi, quella gialla! Poi scusa, dopo lo spettacolo del genere, hai già fatto saltare tre volte! Ha voluto venire sotto la barca! Jumping! Sì? Bene! Fa sport! Se mi togli anche la cosa dalla faccia... Un minuto! Oh, sì, perché se no... Oh, sì, perché se no... Tomax! Andami il cambio un attimo! Cosa? Andami il cambio un attimo! Oh! Ma che è tesa la telecamera! No, perché tu sei nella posizione migliore! No, no, vai che è cotta! Ma che è cotta! Vieni qua! Vediamo che si stanca prima! Guardate, fiato! Fiato! Ma la cintura che si gira... Fiato! Eh, quella è scomoda! Fiato! È comoda da una parte ma... Se lo sta spappazzando da sola! Un pesce di circa un metro e 80! Ha già fatto tre salti, ma ripartenza sotto la barca! Roba da un secondo e mezzo! Beh, questi sono cattivi come pesci! Ma che forse salta ancora! Ma basta saltare! Sì, 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 sì! Oh! Ma che è un bel pesce! Cazzo? Siamo su due metri, ragazzi, eh! Va, va, va! Hai ripreso, Max? Testone? Testone! Oh, è saltato più questo... Che tutti i pesci che abbiamo preso... Ti ho detto che oggi devono saltare più forte! Oggi saltano! È picchia, è punta! Non è ancora stanco! Ma le abbraccia! Le aiuto io! Vai tranquillo! Vabbè, non sembra... No, no, no... E lei che quando, quando, eh... Non so che la sua soddisfazione ti resta fuori da sola! Te lo deve... Se ha bisogno ti chiama! Eh, punta sotto! Vieni, cazzo! Non si dicono le parole, eh! Eh, vabbè, vabbè! Che poi impara Chris! E qui se le impara! Scusami, eh, Chris! Eh, cazzo! Bella, eh! Ok, adesso prendiamo tutto quello... Di smorfie che la Lina fa! Cioè, vediamo la... La sofferenza! Stringi i denti! Dai! Sì! Pampa! Sì! Dai! Grande Lina! Ragazzi, io non so quante persone sono in grado di fare quello che sta facendo lei, eh! Brava, 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 brava! Boh! L'ha ammazzato! Tre, quattro pompate così, ormai ce l'hai qui! Ci siamo quasi! Adesso devi fare attenzione che magari ti spazio provare! Ti dici? Sì, tu recuperati! Io non ho sempre come stavi facendo adesso! Eh, no! Adesso pesce! Un taldo! Ora, brava! Ancora un po' di forza! Eh, beh, ti aiuto io, eh, tranquillo! Riprenditi la porta delle braccia! La tengo io! Non so se in barca, questo! Non so se in barca, eh! In barca! In barca, direttamente in braccialina! Facciamo meno fatica? Eh, magari! Eh, tranquillo! Eh, io sono tranquilla! Ok, adesso che ce l'hai sotto devi recuperare e andare giù! Dai, che sono le ultime pompate! Su! Brava, così! Dai, dai! No, no, tranquilla! Dai, dai! Le ultime sono le più faticose! E' bene perché comincia a vedere le braccia e... Eh, le braccia! Non tengo, ma... Non si fanno sapere! Ne sappiamo qualcosa, noi! Di braccia, che non tengono! Tranquilla che te l'aiuto io! Mi è piuttosto sudato! Un po' salire, eh! Ma va!